L'indecoroso spettacolo che si presenta ai nostri occhi dopo l'invito di alcuni cittadini a prenderne visione come mezzo di informazione ci dà conferma che evidentemente la quarantena fatta la scorsa primavera e quella in corso per nulla sono servite a far riflettere sui tanti errori fatti nel passato e correggere le nostre vecchie abitudini. I vecchi modi di fare sono peggiorati soprattutto in coloro che hanno sempre avuto uno scarso senso civico e rispetto del prossimo e dell'ambiente. 25 caffè, qualità, cortesia e tanto cuore. Siamo a Marina di Ginosa, basta farsi un giro per le periferie e le campagne per scoprire che purtroppo si assiste a un pessimo spettacolo fatto di scenografie desolanti con rifiuti di ogni genere abbandonati dappertutto. Barcando il confine con la Basilicata siamo giunti nei pressi della foce del fiume Bradano, una zona dove non è semplice stabilire le competenze e dove, occultata dalla vegetazione, troviamo una prima discarica a cielo aperto dove i gnoti hanno abbandonato sicuramente in più riprese sacconi contenenti ogni genere di rifiuti, dal vetro di birre ai pannolini per bambini. Un piccolo cagnolino ne ha fatto la propria dimora. Facile per gli zazzoni depositare qui rifiuti senza correre troppi rischi, soprattutto in un periodo dove i controlli sono più concentrati sul rispetto delle varie ordinanze di PCM. Io mi sono rivolto a parecchie persone per questo problema qui in Basilicata, comunque è con questa indecenza che c'è di immondizia che vengono a buttare qui dietro, questo è un nascondinio, non se ne può più perché sta crescendo giorno di giorno, poi c'è un povero cane qui che li porto io di mangiare, che l'ho segnalato anche, questo povero cane che gli escono le ossa da fuori e nessuno si muove a venire a recuperare questa povera bestia. Per le persone che vanno buttando spazzatura in mezzo alle terre, che la finissero con questa porcheria, possono fare l'indifferenziata, cioè l'indifferenziata la possono differenziare questa immondizia, non che vengono qui comodi con le macchine e scaricano chi viene a pescare qui al fiume e altre persone che vengono a fare i fatti loro, buttano l'immondizia qua che non si capisce, guarda. Nel percorso di ritorno verso l'abitato di Marina di Ginosa percorriamo una stradina sterrata parallela a quella fatta all'andata e la situazione non cambia. Qui ci sono materiali utilizzati in edilizia, macerie, rivenienti da lavori, scaricate in campagna ovviamente per non pagare i costi di discarica. Ad ogni angolo un cumulo. Chi conosce la zona ci informa che l'area fu attenzionata dalle autorità che installarono delle fototrappole ma asportate dagli stessi incivili. Ovviamente le responsabilità di tale scempio non sono da attribuire unicamente alle istituzioni ma soprattutto a quei nostri concittadini che non hanno ancora recepito il messaggio e continuano ad inquinare senza preoccuparsi delle conseguenze che tali gesti hanno sull'ambiente e sulla salute di tutti noi.